La Napoli che verrà tra nuovi scali ferroviari e ricadute economiche se ne è discusso all'Unione degli Industriali. L'apertura a breve delle nuove stazioni di Capodichino e della linea 6 cambieranno radicalmente il modo di spostarsi in città per napoletani e turisti. Una mobilità sostenibile, green, come sottolinea l'amministratore delegato e direttore generale di FS e sistemi urbani Umberto Lebruto. Già oggi abbiamo servizi buoni di alta velocità, del regionale, il trasporto pubblico locale si integrerà ancora di più. Le linee metropolitane L1 e L2 con la L1 che si chiuderà a breve collegherà anche l'aeroporto con la stazione. Quindi il futuro di Napoli lo si vede sempre di più con una mobilità integrata sia dal punto di vista urbano che dal punto di vista ferroviario. Al convegno, aperto dalla relazione del Presidente dell'Unione degli Industriali di Napoli, Costanzo Giannotti Pecci, hanno partecipato tra gli altri anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Per entrambi la mobilità su ferro può e deve essere la sfida della nuova Napoli che verrà. Il nuovo nodo di Piazza Garibaldi che si avvia a risolvere un problema storico che è quello dell'accesso a Napoli dalla stazione ferroviaria con la realizzazione del nuovo svincolo dell'autostrada, i nuovi parcheggi, il nuovo terminal bus che in una città che cresce sempre di più anche dal punto di vista turistico e trasportistico è fondamentale. E poi abbiamo un altro intervento per noi fondamentale che è quello di Campi Fegherei. Complessivamente noi avremo nei prossimi anni in Campania 7 miliardi di investimenti per quanto riguarda le infrastrutture, 5 miliardi soltanto a carico della Regione Campania di EO per i programmi di realizzazione di alcuni tratti della linea 1, della linea 6, della metropolitana, nel completamento dell'anello, più tutta una serie di stazioni, più il rinnovo di tutta la circunvesuiana con un miliardo di investimenti e così via.